Ciao bambini! Le maestre del libro infinito hanno pensato di realizzare un gioco interattivo solo per voi, per conoscere e divertirvi con lo spazio intorno a voi. Sopra, sotto, dentro, fuori, davanti, dietro, correte a scoprire di che si tratta. Seguite con attenzione la voce della maestra Melania, che vi darà le indicazioni su cosa fare. E se sbagliate, non vi preoccupate, potete sempre ricominciare da capo. Mi raccomando, buon divertimento e imparate tante cose nuove. Ciao! Grazie a tutti!